Credo che sarebbe bene fare tesoro degli errori commessi allora, da notare che in genere questi sono errori che si commettono nel pieno dell'entusiasmo nazionale e se mi permettete anche dei media, perché l'impostazione paracalcistica di questioni che attengono a più nazionalità è sempre molto forte in Italia ma anche negli altri paesi, quindi si cacci lo straniero, si faccia leva sull'orgoglio nazionale e questo l'abbiamo visto molte volte. Insomma se si vuole essere colbertisti come i francesi a volte vogliono essere, bisogna esserlo fino in fondo, bisogna saperlo essere e bisogna esserlo con intelligenza. Il colbertismo de no antri, come con termine tecnico una volta mi capitò di chiamarlo in un articolo, non è proprio la cosa che ci rafforza nei mercati internazionali. Trovo anche, scusi ho dato soprattutto considerazioni di sfondo perché poi sono quelle più rilevanti rispetto ai casi particolari, trovo anche curiosa, se questa sarà la strada, l'intervento del capitale pubblico, come mi sembra attraverso poste sarebbe.